Buonasera, non so se si sente, spero di sì. Sono Luca Colombo, sono il segretario della Fondazione Italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica e da parecchi anni milito nelle reti internazionali che promuovono la sovranità alimentare che è stata più volte evocata. Quella sovranità che, come dire, ricordando Expo dei Popoli, appartiene ai popoli. Noi ricordiamo spesso questo, nell'articolo 1 della Costituzione Italiana si dice che la sovranità appartiene ai popoli e la sovranità alimentare quindi ci appartiene, qualcosa che dobbiamo noi promuovere, sostenere e difendere soprattutto. E quando si parla di popoli, si parla d'Italia, il discorso del cibo viene quasi inevitabile, credo che sia anche per quello che l'Expo è stata vinta dall'Italia per portare il mondo, l'esposizione universale a Milano a parlare di cibo. Abbiamo la presunzione di essere la culla del cibo, il Mediterraneo è stata la culla dell'agricoltura e il mondo occidentale, l'Europa in cui noi ci muoviamo, è stata la culla della modernizzazione, della modernizzazione anche delle campagne, della modernizzazione dell'attività agricola. Quella modernizzazione che in qualche modo ha cercato di imprimere un'impronta molto forte nei nostri sistemi di coltivazione, allevamento e quant'altro. E questa modernizzazione poi l'abbiamo esportata. La rivoluzione verde è stato questo, una guerra alla natura portata alla chimica e una guerra ai contadini portati dalla scienza, da una scienza bianca, anglosassone, austera, molto imbrigliata nei suoi camici. Ora siamo a una svolta possibile, una svolta importante, perché una volta che abbiamo invaso il sud del mondo con le nostre strategie, con le nostre scelte, con i nostri prodotti, con i nostri brevetti. A questo punto siamo arrivati a un momento in cui possiamo mutuare dal sud del mondo, che è ricco di pratiche, ricco di pensiero, portare qui delle cose che a noi servono tremendamente. Io provo a identificarne due. La prima si chiama agroecologia, è una disciplina, è un insieme di pratiche e sta diventando ormai un movimento sociale molto importante. L'agroecologia è una etrina, si potrebbe dire. Sono almeno tre cose racchiuse nella stessa parola, nello stesso concetto. L'agroecologia significa cercare di lavorare con la natura, non più avere la natura come nemica, da aggredire, da modificare, da torturare, ma avere la natura come alleato e che possa, in qualche modo, attraverso le sue potenzialità e la comprensione dei suoi vincoli, aiutarci a produrre il cibo in una maniera sostenibile, territorialmente definita e pertinente con le comunità che lavorano su questo cibo. L'agroecologia ormai avanza, l'abbiamo mutuata dall'America Latina e da lì che l'idea è partita. In realtà era un'idea che aveva già trovato radicamento in tanti territori, non ultimo i nostri, non l'avevamo però ancora concepita come tale. È stato quindi un passaggio importante, un passaggio che all'inizio ha avuto una declinazione più scientifica, disciplinare, tecnica, e che piano piano è evoluta, è evoluta capendo che c'erano delle pratiche nei territori, che c'erano delle esperienze fatte da contadini, da agricoltori, da allevatori, ma anche da tecnici, che stavano cercando di capire che tipo di relazioni, l'attività umana, antropica, che si innesta sulla natura potesse, in qualche modo, generare degli alimenti appropriati. Alimenti da usare come tali, perché poi il problema è che si parla tanto di sfida alimentare, si parla tanto di fame, in realtà di cibo ne abbiamo una quantità enorme, abbiamo una quantità di materia prima che fatica a diventare cibo, che perde la sua dignità di cibo per diventare altre cose. L'agroecologia ci aiuta anche a riappropriarci di questo, a riappropriarci proprio del senso autentico dell'alimento che serve a dare energia agli esseri umani, energia alla vita, come Espo Ordinaria racconta. Ora, da questo sud del mondo, in realtà, grazie anche al fatto che nel frattempo è diventato un movimento sociale, è diventato un corpo sociale che sta spingendo su questa strada, l'agroecologia piano piano si sta fermando. Non è un caso che la FAO abbia organizzato a settembre un simposio sull'agroecologia, la sdoganata dentro un tempio che di solito è avvezzo a trattare il tema dell'agricoltura in una maniera più convenzionale, ha portato lì a discutere ricercatori, contadini, attivisti, ha ragionato su come promuovere questa agroecologia, che però va anche difesa, va tutelata, soprattutto da quella che può diventare una cooptazione, una specie di espropriazione dei termini. Noi vogliamo che l'agroecologia sia trasformativa, cioè che sia capace di portare trasformazione, un cambiamento. In realtà c'è il rischio che diventi trasformismo, per cui il business as usual piano piano si delizi di nuove etichette che sono magari più appealing, che hanno più fascino e che in qualche modo vanno a espropriare la natura autentica di questi concetti. Quindi questa agroecologia come movimento sociale va proprio anche tutelata in questo senso. Venti giorni fa in Mali, in un villaggio del Mali, del centro del Mali, si è tenuto un forum mondiale, internazionale, sull'agroecologia. Un forum dove hanno partecipato gli agricoltori, i contadini, ma anche i pescatori, anche i popoli indigeni, i pastori. Quindi la comunità internazionale che produce alimenti si è trovata in Mali a discutere di cibo in una modalità e in una chiave agroecologica. Questo è stato importante, proprio perché bisogna in qualche modo riaffermare contenuti, ribadirli, dargli pienezza, cercare di capire quali sono le esperienze e le pratiche che gli danno sostanza a questi termini. Nello stesso tempo evitare che vengano sfruttati e spropriati da chi tenta di guardare alle nuove pratiche, ai nuovi movimenti sociali, a quello che loro producono come anche risorsa e bacino da cui trarre nuovi slogan, nuove formule per riconfezionare l'esistente. Ma dal sud del mondo abbiamo preso anche un'altra cosa, che è la dinamica partecipativa, è la capacità di costruire la comunità e nella comunità sviluppare nuove pratiche, nuovi concetti, nuovi pensieri, nuove idee. Mi piace pensare che noi ci sfamiamo anche di idee, quindi è bene in qualche modo cercare di condividerle, di apprenderle anche dove sono. E questa idea di fare per esempio ricerca partecipativa, che è uno degli sforzi che noi stiamo realizzando, parte proprio dal sud del mondo, è lì che riceve la spinta. Quando prima si parlava di sementi, di selezione partecipata, di popolazioni di sementi, bene, la ricerca di nuove varietà, di nuove popolazioni, di nuovi semi in maniera partecipativa, fatta di concerto con gli agricoltori, guardando, disegnando il tipo di semente che si vuole, alla fine riconoscendo il risultato nell'interesse dell'agricoltore. E questo viene dal sud del mondo. È qualcosa di cui adesso stiamo sperimentando la forza, stiamo cercando di metterla in pratica in Italia, in Europa, e sta dando dei grandi risultati. Ma è ancora una volta qualcosa che noi abbiamo appreso da non troppo lontano, da non troppo remoto, probabilmente da un punto di vista delle comunità, da molto vicino a noi, anche se stentiamo a riconoscerle come nostri fratelli, come in realtà sono. Quindi questa forza che ci arriva della partecipazione, dell'aggregazione, è una forza che ha un potere trasformativo, che noi dobbiamo mettere in campo. Agroecologia e ricerca partecipativa sono due delle transizioni che servono a rinnovare i nostri sistemi alimentari, a ridargli dignità, a ridargli senso pieno, e sono delle transizioni che però da sole non bastano. Nel senso che sono transizioni perché hanno bisogno di tempi, di maturazione, di comprensione da parte di chi le deve in qualche modo adottare, provare a mutuare, ma richiedono anche delle trasformazioni molto forti, in primis delle politiche. Ci sono politiche alimentarie e agricole che devono mutare radicalmente la loro struttura, ci sono le politiche di ricerca che devono cambiare, devono riconoscere i percorsi che vedono i saperi informali, i saperi esistenti, quelli tradizionali o anche quelli esplorativi, ma che non sono i saperi scientifici cosiddetti, così come li abbiamo definiti finora, che devono essere sostenuti, devono essere valorizzati e devono essere anche foraggiati di quelle risorse, di quegli investimenti appropriati a quelle dimensioni che sono fondamentali per far sì che sboccino i risultati. Ora, in questo noi appunto pensiamo che bisogna in qualche modo esporci, lo dico con la X, esporci oltre il cibo, oltre il cibo nel senso andare a capire cosa c'è dietro, chi c'è dietro al cibo, capire e distinguerlo e apprezzarlo quando deve essere apprezzato, e allo stesso tempo esporci oltre il cibo in avanti, andare a esplorare nuove traiettorie, andare a vedere con quali modalità riusciamo a ridargli dignità e renderlo di nuovo funzionale agli esseri umani. Grazie.